Eccoci qua, fai ballare l'occhio sull'oggetto. Caspita! Eh, dieci minuti fa eravamo in piacere il dono, andiamo. Guarda qua cara, ma il grappeggia si è esaltato eh. E poi abbiamo anche gli schiavi a nostra disposizione. Vieni, vieni. Che bel divano! Ah ah, ti piace eh? Bene, se felebrava te lo compro. Perché grappeggia fa gli sconti dal 30 al 60, siamo dentro nel base. Meno male che c'è grappeggia. Allora bella gente, giù dalla pianta e presentarsi a grappeggia. Si volete, ci vediamo.